Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori, bentornato a Gheo, è sempre un piacere conversare con te. Allora, ci affidiamo sempre di più al fai da te, questo ormai è un dato di fatto, un trend che va avanti da quanto tempo? Soprattutto è una necessità, perché fare le vacanze è diventato estremamente costoso, soprattutto dopo il Covid, i prezzi dei voli in particolare sono letteralmente esplosi, questo anche un po' per colpa delle compagniere che avevano fatto male i calcoli, hanno dismesso molto personale sotto la pandemia, ma anche molti slot di quelli che servono per occupare lo spazio in un aeroporto e oggi i prezzi sono davvero inaccessibili per la maggior parte delle persone e i consumatori quindi si rivolgono al fai da te, che è una buona soluzione a condizione di avere molto tempo a disposizione perché allestire un viaggio su misura, anche un piccolo viaggio, semplicemente un hotel e un trasferimento non è una cosa che si fa in due minuti e bisogna essere un po' esperti per evitare alcune sirene, truffaldine perché ovviamente sul tema dei prezzi ogni tanto si trovano degli annunci di case vacanze miracolose magari nel sud Italia che non esistono, il consumatore arriva lì e non la trova. Adesso poi ci direi, quindi comunque rivolgere ad essere un'agenzia di viaggi ancora ha un senso, no? Sì, soprattutto per i viaggi più complessi. È vero che uno paga un po' di più, però ha delle garanzie. Direi di sì, soprattutto per i viaggi un po' più complessi, sia per l'organizzazione e anche in caso poi di problematiche perché se ho organizzato il viaggio da solo e poi per disavventura cancellano il mio volo diventa un problema se invece si tratta di un pacchetto turistico le garanzie per i consumatori sono superiori. Quindi il consiglio è che su un viaggio un po' complesso forse è meglio affidarsi a un'agenzia invece se dobbiamo fare un fine settimana, due o tre giorni, una cosa un po' più semplice possiamo anche pensare di organizzarselo da soli, no? E allora che cosa dobbiamo fare attenzione? Allora innanzitutto dobbiamo scegliere con attenzione come si fa quando si acquista nella vita di tutti i giorni anche davanti alle offerte turistiche bisogna evitare di farsi prendere innanzitutto dalla fretta perché questi portali, questi siti sono specializzati nell'accrescere la nostra paura di perdere l'occasione. Ricorderai Sveva che spesso compaiono dei banner, altre tre persone stanno guardando quella stanza ci sono solo tre posti disponibili su quel volo a quel prezzo. Ora pensa che su questo è intervenuta la Commissione europea già qualche tempo fa giudicando queste tecniche manipolatorie perché immagina tu di essere lì con tutta la famiglia a prenotare una vacanza insomma momento notoriamente importante nella vita di tutti noi e di essere bombardato da questi messaggi che hanno un'efficacia nel farci perdere un po' la bussola e comprare magari a Bambera. Altra attenzione da avere soprattutto se compriamo online di osservare che il prezzo non aumenti di schermata in schermata perché molto spesso soprattutto sui voli troviamo un prezzo iniziale molto accattivante davvero per tutte le tasche piccolo particolare poi schermata dopo schermata via via che completiamo il processo di acquisto si aggiungono oneri vari l'ultimo che fa arrabbiare molto i consumatori è addirittura la scelta del posto so di nuclei familiari di 3-4 persone che sono costrette a viaggiare separate quindi lasciare magari un bambino di 8 anni lontano se non pagano un sovrapprezzo ma un bambino di 8 anni ha l'obbligo di viaggiare vicino a un genitore dovrebbe essere così ma le informazioni che ci danno su questi siti non sono sempre chiare ovviamente mettiti nei panni i due genitori che cercano di prenotare un viaggio questo è un treno nuovo ormai gli aerei ti fanno pagare il posto e ci sono delle fasce di prezzo i posti buoni costano anche 40 euro i posti quelli più normali il posto per sederti tu paghi già un biglietto lo paghi caro in più devi pagare dalle 20 alle 30 euro a posto per sederti questa è una cosa che non è tanto giusta a far arrabbiare tutti i viaggiatori è una pratica che noi chiamiamo lo spezzatino dello scontrino cioè il prezzo immagina anche le difficoltà nel comparare io scelgo di comprare il volo su un sito piuttosto che su un altro in forza del prezzo ma se quel prezzo non è chiaro perché appunto è stato vivisezionato ma c'è scritto sempre a partire da piccolo piccolo da, 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 nel senso che non è mai quello il prezzo finale purtroppo dacci qualche consiglio appunto per acquistare i voli a prezzo più conveniente il consiglio più importante è quello di conoscere chi ce li sta vendendo perché le tecniche di vendita dei voli sono basate su degli algoritmi che di fatto cercano di capire che consumatore sta acquistando per una semplice ragione per far pagare di più ad un consumatore che almeno l'algoritmo pensa sia benestante e invece offrire un prezzo accessibile ad un consumatore magari meno benestante alcune di queste tecniche fanno sorridere ma vi assicuro che se sono messe in pratica possono farci risparmiare la più perversa se vogliamo, quella che ci incuriosisce di più riguarda l'apparecchio con il quale noi compriamo lo smartphone oppure il computer perché questi algoritmi sono in grado di capire che tipo di apparecchio sto usando e quindi se è un telefono di ultima generazione l'algoritmo presume che io sia capace di spendere cifre elevate viceversa se sto provando ad acquistare da un vecchio computer io che ho un telefono vecchio vado perfetto allora mamma mia, se il tuo computer è un po' datato meglio ancora esatto, poi la tecnica più importante di tutte è quella di evitare di completare l'acquisto dallo stesso account diciamo dalla stessa postazione dalla quale abbiamo fatto delle richieste di preventivo questo è perché ancora una volta l'algoritmo legge i vari accessi il tuo interesse e ti aumenta il prezzo di giorno in giorno capisce che questo interesse cresce magari abbiamo visto altrove, torniamo su quel sito e quel prezzo sarà aumentato allora qui il trucco per chi è proprio uno smanettone di viaggiare in incognito, di usare una VPN o anche solo di cancellare la memoria di navigazione oppure fate l'acquisto con il telefono del vostro amico e non con quello con il quale avete chiesto i preventivi ma mi stai dicendo delle cose pazzesche secondo me cosa bisogna fare per evitare gli algoritmi perché ormai non... senti, e poi se arriviamo sul posto non è come pensavamo? questo succede a volte è molto importante nella materia turistica che ovviamente i servizi promessi siano poi effettivamente forniti il consiglio è di conservare una copia del catalogo se ce lo abbiamo di fare uno screenshot, una foto del sito dal quale compriamo in modo da tenere traccia di tutte le opportunità che ci sono offerte sul posto, se ne lo troviamo facciamo delle foto e dei reclami già sul posto perché la legge impone al consumatore di reclamare già sul posto perché magari l'albergatore può risolverci il problema e questo è un appello che condivido parlatevi, che sia un albergatore, che sia una compagniera reclamate i vostri diritti e soprattutto fate sapere che li conoscete cambieranno gli scenari ci sarebbe ancora tantissimo da dire Massimiliano torneremo a parlarne grazie a Massimiliano Dona Presidente dell'Unione del Consumatore sempre chiarissimo grazie a tutti